Braccia incrociate per i lavoratori della Dedalo Ambiente a G3 che lunedì e martedì si fermeranno per uno sciopero proclamato dalla CGL e dalla CISLE. Alla base della protesta la grave situazione finanziaria della società che si ripercuote inevitabilmente sui lavoratori che ancora sono in attesa di ricevere parte della tredicesima mensilità e il saldo del mese di gennaio. Una storia che si ripete. I lavoratori della Dedalo Ambiente a G3 che si occupa della raccolta dei rifiuti a Licata, Campobello di Licata, Canicattì, Palma di Montechiaro, Naro, Camastra e Ravanusa non hanno ancora percepito il 60% della tredicesima mensilità e lo stipendio di gennaio. Per questo motivo scendono in campo i sindacati, la CGL e la CISLE che hanno proclamato per le giornate di lunedì e martedì lo sciopero. La situazione finanziaria della società pare molto grave, hanno spiegato i segretari provinciali Enzo Iacono e Umberto Nero, in quanto quasi tutti i comuni hanno somme arretrate da versare. Tutti i lavoratori devono percepire il premio di produttività, ma la situazione è critica anche per quel che riguarda i mezzi, che hanno bisogno di manutenzione straordinaria, e come se non bastasse devono essere versate le somme per lo straordinario e la reperibilità. Senza l'impegno della società a versare le spettanze e a programmare la soluzione delle altre problematiche, si svolgerà lo sciopero e verranno organizzate anche altre iniziative di lotta. Lo sciopero indetto per due giorni non lascia presagire nulla di buono per i comuni serviti dalla dedalo ambiente. Una situazione intollerabile per i lavoratori, ma che si ripercuote inevitabilmente sui cittadini e sulla città, che si vedrà privata di un servizio importante e che lascia preludere all'indecoroso spettacolo dei cassonetti stracolmi di rifiuti e sacchetti di immondizia che giacciono nelle strade e a pagarne le spese sono sempre i cittadini.